Guardia di Finanza dona in beneficenza merce sequestrata. In un clima di solidarietà profusa dalle festività pasquali appena trascorse, la Guardia di Finanza di Pachino ha donato all'Associazione di Volontariato Agape di Pachino la merce sottoposta al sequestro nel corso dei numerosi e costanti controlli eseguiti dai militari della tenenza di Pachino presso i locali mercati rionali nell'ambito del dispositivo di contrasto alla contraffazione e agli illeciti in materia di abusivismo commerciale coordinato e diretto dal Comando Provinciale di Siracusa. Tale merce, 50 paia di scarpe di norma destinata alla distruzione grazie all'autorizzazione concessa dalla competente autorità giudiziaria su input delle fiamme gialle operanti è stata destinata alla presente iniziativa di utilità sociale. Le scarpe sono state consegnate al Presidente dell'Associazione Agape, signor Giuseppe Vassalli che ha ringraziato la Guardia di Finanza esprimendo parole di apprezzamento per l'iniziativa grazie alla quale tali beni anziché andare distrutti saranno distribuiti a quelle categorie di persone che nell'attuale situazione emergenziale ne hanno più bisogno. L'iniziativa delle fiamme gialle siracusane si pone nel baricato quadro del costante impegno del corpo a favore della collettività dove a fianco della lotta ogni forma di criminalità economica e finanziaria trovano spazio e diverse iniziative benefiche volte ad assicurare la vicinanza della Guardia di Finanza e dell'associazione che si occupano dei più bisognosi.